torniamo indietro nel tempo e scopriamo come la nave esplosa si il posto comunque livello con cortex e niente anche questo è abbastanza tosto poi si unisce al livello il primo livello della neve dove usiamo per la prima volta kafuna wa e qui non ci arrivo no per le casse non mi ricordo bene veramente non me lo ricordo è ancora questo dannato errore ok 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 no ah ok c'è la cassa torniamo indietro e qui sotto ci stanno delle casse bella la colonna sonora oh gemma segreta grande che voglio aver fatto un errore eee neanche lo prendo lo prendo lo prendo oh gemma segreta oh dio ok 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 se ti senti gelato rallegra il palato con il bandico stufato e questo non è neanche l'ultimo livello di ancora qualche passo e diventerete bandicoot non penso che qua dietro ci siano le casse c'è uno stronzo via qui sopra non c'è nulla e niente il livello è cambiato anche qui dai perfetto sicuramente qui ci saranno ancora più casse nascoste più complicata era proprio quella di cortex e non è qui e mo come si attivano quelle come va da dire va fang e attiva tutte e good al diavolo che si tratta magari compare il blocco di ghiaccio ma tante grazie così in ritardo bravi stavo dicendo 140 casse anche questa volta anche questa volta su 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 che è bellissimo, perchè c'è l'inserimento con Rexy, allora, questo è anche l'ultimo livello nella polistoria, e mi dispiace, l'ultima maschera, credo di sì, credo. Scopriamolo tenendo il livello, ecco qui, una delle parti più brutte, e più incontri che è bello, e qui c'è anche il Kapunawa, no, l'aniloli, qui bisogna fare a zonzo tra le dimensioni, e stavo per morire di nuovo, ma con questo livello è bello, è bello, è bello, è bello, è bello, e qui lo? Rexy, dove andiamo a giocare con te, eh? Ma se, ma già da adesso... No, fuck, no, Crash, non drogatti! Rexy! Ho conosciuto un tuo antenato di un'altra dimensione, o almeno di te stesso, di un'altra dimensione, non drogatti! Ha fatto una figurata, ma anche tu la fai, e che bello, qui c'è anche il livello della linea, eccolo, altra zona melmosa, dove c'è la lavica, dove ci stanno le bolle di merda che distruggono la gravità! Checkpoint e... Mi sono sicuro? Uh! Ciao, cucciolo! Ah, si è attivato il blocco! Almeno questa parte! In ogni bonus è una parte stronza, dai! Rivelati parte stronza, eccolo! Neanche tanto! Ambulanza, aiuto! Oh! I luceronti pure! E dietro c'è anche Rexy! Ma ti sei proprio innamorato di noi, eh? Saltiamo su queste tessi, cazzo! Ho paura di andare oltre, ho paura di andare oltre, se no sarei morto! Sarei morto tipo tantissimo! Qui ho paura ad andare troppo avanti, perché potrei morire! E qui come fai, eh? Brutto testa di cazzo, eh? Come fai? Come fai? Ti torna indietro, brutto testa di cazzo! Ah, ok, non te giri per far... in corsa! Bravo, va! Non è... non sapevo che esisteva questa specie di T-Rex che... compare! Vabbè... La dietro c'è la gemma... nascosta! Ho un buon occhio! Mmm! Ora la lava abbassa nella gravità! Non la merda! Fuck! Ah, ma qui c'è il nastro flash, perché non l'avevo visto, perché... Fuck! Non è tocca tornare! Vabbè che ci sono altri livelli dove non ho preso il nastro flash, perché sono molto... per il prossimo episodio, o almeno per... per gli episodi dedicati ai nastri flash, beh... Cade, 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 torna! Oh! Perfetto, 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 pausa! Non si è sentito il suono, ma vabbè... Alta parte con Rexiii... Sbrigati, sbrigati, sbrigati! Capi seria! Vedendo da que... vedendo da queste orme, sembra che... un altro medio, un'altra linea temporale c'è un'opera qua... Non è vero! Spacca, 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 scorri, corri, corri, corri! C'è il... Nemesis Saulus! Corri! Corri, 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 questo salta, questo salta, salta, salta! Aiuto, 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 aiuto! E' morto? E' morto? E' morto? Oh, eccolo! Proprio non ti dà tempo, eh? Eeeh, sono morto! Vai, vai, resta lì, resta lì! Nooo... Oh, per colpa di... Cassi di m***a... No, no, no... Eeeh, muoio sempre la... Prima o poi finisce, eh? Finisce la tua routine... La tua... La tua routine di... Seguirmi... Sta tranquillo, ti darò un futuro! Nooo... Corri! Cresca, bastardo! In una linea alternativa dove... Mi ammazzava, visto che qui le orme si interrompono... Vabbè... Nooo... Non ho preso tutte le casse... Nooo... Nooo... Che bel posto dove dormire... Nooo... 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 Sì... E non badare a me... Io non conto... Nulla conta... E con Ika Ika siamo arrivati a quattro! Ika I- E adesso? Non chiuderemo i barchi se prima non fermiamo chi li ha- Ovvero... Entropy... Ed il suo... Prezioso generatore di barchi! E' proprio ora di dare una lezione a Entropy! Com- En- Entropy! Eeeh... Ci sarà sicuramente un altro di quei cosi luccicanti in giro!